Grazie a tutti. Non voglio dire una cosa per un'altra, ci mancherebbe altro, poi vengo redarguito ed è giusto. È una visione da scienziato evidentemente e quindi aggiunge secondo me moltissimo alle cose che ha detto Nicola e che sono invece nella versione giornalistica. E quindi senza essere del tutto un professore universitario perché sa bene che l'audience non è quella dei suoi studenti ma è quella dei giornalisti, il professor Ferrari sa bene e quindi argomenterà in modo che tutti noi riusciamo a comprendere. A te Gianluigi. Allora grazie a Marco per l'invito e grazie a tutti per essere qui. Allora sì, io quello che cercherò di affrontare è esattamente la stessa tipologia di discorso di Zamperini però vista dal punto di vista di un informatico. E anche io parlerò di giornali e di informazioni in modo particolare questa è un'immagine di un film famoso, Quarto Potere. Fosser Kane usava l'informazione come strumento di potere e come strumento di politica e questa è la mia seconda partecipazione a questo evento l'anno scorso a Roma, abbiamo parlato esattamente del ruolo che aveva le tecniche di intelligenza artificiale, in modo particolare l'analisi dei dati e il caso che abbiamo considerato l'anno scorso è esattamente il caso di Cambridge Analytica che Zamperini ha parlato diverse volte nel suo intervento. Allora la cosa importante di questo è, prendendo di riferimento alle politiche, prendendo di riferimento alle elezioni americane del 2016, che durante le elezioni hanno contato circa 50.000 profili sociali di bot, ovvero di entità automatiche che davano delle notizie che però non erano associate a un essere umano. E nello studio del 2017 è venuto fuori che su Twitter ci sono circa 48 milioni di bot, quindi è una dimensione che fa impressione. Allora, come dicevo, io sono un laureato in scienza dell'informazione, sono professore di informatica e qui non faccio una professione di neutralità, non sarò neutrale. Io difenderò, e prendo questa citazione da Calvino nelle elezioni americane, difenderò il ruolo del software, la leggerezza, rispetto all'hardware, quelle pile di rack, di server che prima parlava Zamperini. Il software, l'informatica ci permettono di vivere meglio. Sono degli strumenti essenziali che aiutano la nostra vita e la nostra società in un modo non banale. Var usati con consapevolezza. Allora, parliamo da che cosa vuol dire calcolare. Il titolo del mio intervento è, parliamo di algoritmi. Quindi la prima cosa, calcolare. Allora, il meccanismo del calcolo è un meccanismo innato nella natura umana. Ad esempio, già nel periodo baglionitico, bisognava cominciare a fare addizioni e divisioni. Perché? Perché l'uomo vive in comunità e aveva bisogno, ad esempio, di comprendere il cibo e dividere i bestiami. E quindi aveva l'esigenza di fare le divisioni, in modo da permettere che il cibo fosse condiviso all'interno della società in cui vivevano. I babilonesi hanno inventato invece il sistema posizionale. È un sistema un po' difficile perché con 60 numeri. Quindi immaginate delle cifre molto lunghe, molto difficili da fare conti. Ma riuscivano con questa a risolvere molti problemi che poi avevano a che vedere con l'astronomia. E ora diremo con la geolocalizzazione. A differenza di Zamprini, credo che digitale non venga dal calcolo, ma viene dalla parola inglese digit, che erano le macchine numeriche. Perché prima le macchine erano analogiche, la macchina di Babbage e l'analitica. Quindi ho una leggera opinione differente su questo punto. Che cos'è un algoritmo? Algoritmo lo possiamo definire in modo semplice come un procedimento che permette di risolvere un problema eseguendo in un determinato ordine un insieme di passi elementari. Ovvero che cosa vuol dire? Abbiamo una specie di ricetta che mettiamo assieme, dando un ordine opportuno, a delle istruzioni elementari che siamo in grado di eseguire direttamente. Le macchine sono in grado di eseguire direttamente delle istruzioni elementari che sono i mattoncini degli agronitmi che poi vengono eseguiti. Che sono le tecniche di base che vengono eseguite dall'interno dei linguaggi di programmazione. Da dove viene la parola algoritmo? La parola algoritmo viene da un matematico astronomo arabo, e quindi a volte i migranti aiutano, del nono secolo. Si chiamava Al-Kuwarizmi, è stato poi trasformato nella nostra lingua in algoritmo, e questo è un testo su in arabo. Gli arabi avevano anche loro la notazione decimale, gli indiani avevano inventato lo zero, gli arabi avevano la notazione decimale, in Europa noi avevamo, i latini avevamo un'altra notazione per fare i conti che era disperante. La notazione decimale aiuta moltissimo a fare i conti. E nel periodo degli scambi, io vengo da Pisa, quindi della Repubblica Marinara, quando c'era il periodo di fare scambi e di avere il libro master, ora si chiamerebbe la Bollock Chain, e bisognava comprendere chi erano i prestiti e quali erano invece i crediti, bisognava saper fare i conti in modo efficace, in modo efficiente, e quindi la notazione araba, portata da Leonardo Fibonacci, quello dei numeri di Fibonacci, era utilissima per fare commercio. Allora, andiamo a parlare a questo punto del perché questa nozione che è nata quindi con l'uomo ha portato a un'innovazione. Ha portato a un'innovazione perché si è aggiunta la tecnologia, perché abbiamo detto l'algoritmo è un procedimento effettivo che permette di eseguire delle istruzioni. A questo punto, fintanto che non c'era la tecnologia che permetteva di eseguire delle istruzioni in modo efficiente e velocissimo e alla portata di tutti, saper scrivere algoritmi non era una cosa che dava un effetto sulla nostra vita così impressivo. Allora, che cos'è? L'informatica è esattamente questa, è una scienza sperimentale. Sottolineo la parola scienza perché gli studi sugli algoritmi hanno una base scientifica. Gli studi sui linguaggi di programmazione e su come si costruiscono i sistemi di calcolo hanno una forte base scientifica. Allora, oggi è difficile comprendere la differenza tra un esperto di abilità di strumenti e uno scienziato dell'informatica. Ma vi faccio un'analogia. Voi, domani, giocando anche con il mio cognome, nei prossimi giorni inizia il campionato di Formula 1. Il campione mondiale di Formula 1 è Hamilton. Guida una Mercedes, non una Ferrari. E cosa succede? Vi fareste voi progettare una macchina da Hamilton? È un ottimo guidatore, ma dubito fortemente che accettereste la progettazione di una macchina fatta da uno che sa guidare molto bene. Questa è esattamente la differenza tra la scienza, cioè tra coloro che usano gli strumenti e hanno la consapevolezza del progetto degli strumenti e che è in grado solo di utilizzare gli strumenti. Allora, l'informatica ha sfortunatamente e fortunatamente anche questa doppia valenza e dovete sempre vedere l'informatica anche come uno scienziato, non soltanto uno, un nerd che parla soltanto con degli strumenti strani. Allora, il punto è che l'informatica è una scienza che ha cambiato la società, perché non è un neutrale. Cambia i modi in cui, una volta utilizzata, cambia sostanzialmente la società in cui è inserita, il contesto di riferimento. Infatti, se noi facciamo una breve, io non sono ovviamente un sociologo, ma se noi passiamo alla rivoluzione, parliamo della rivoluzione industriale, era la rivoluzione delle macchine che facevano il lavoro per gli operai. Poi siamo passati alle macchine digitali che facevano il lavoro con dei meccanismi computerizzati, ma lo facevano bene e permettevano, ad esempio, agli operai di non morire perché avevano i polmoni intossicati nelle vernicerie. I robot sono nati lì. A questo punto noi siamo passati a quello che Zamperini prima chiamava le macchine cognitive, cioè le macchine che utilizzano gli strumenti dell'intelligenza artificiale. Come? Nella società industriale c'era bisogno di avere delle conoscenze scientifiche di base, di fisica, di matematica e di chimica, per usare le macchine della rivoluzione industriale. Ora c'è bisogno di competenze di informatica per poter usare gli strumenti della società digitale e della società delle macchine cognitive che stiamo iniziando a vedere ora. Ma l'informatica ribadisca una scienza, quindi bisogna usare gli strumenti, avere una capacità di quello che si chiama il pensiero computazionale, cioè avere la comprensione di che cosa sono gli algoritmi, di perché gli algoritmi hanno un ruolo. Quindi bisogna avere la competenza per comprendere, da risolvere i problemi a far risolvere i problemi, cioè fare in modo che le macchine risolvano i problemi per noi. Quindi il primo punto è la formazione, che deve essere una formazione scientifica di base, e la consapevolezza sull'uso degli strumenti. Allora, io però sono un professore universitario, quindi come affronto questa cosa? L'affronto come si affronta, l'affronto uno scienziato, quindi quando uno parla di algoritmi, sono dei problemi di natura generale. Il primo problema che uno si pone è l'universalità. Esiste una nozione astratta di macchina per il calcolo? Cioè, abbiamo un modello per il calcolo a cui fare riferimento, in modo tale da comprendere e di avere una pietra di paragone, ad esempio per misurare la complessità degli algoritmi, l'efficienza degli algoritmi. Esistono dei problemi che le macchine di calcolo non possono risolvere. Esistono dei limiti alla potenza di calcolo, ovvero gli algoritmi possono fare tutto. Allora, per fare questo, partiamo da una cosa, e quindi sempre in analogia con Zampanini, che ha già introdotto Alan Turing, il modello universale esiste. Il modello universale è una cosa semplicissima, è questa. Si chiama la macchina di Turing. La macchina di Turing la potete vedere come una struttura che ha un controllo, un numero finito di stati, un nastro, infinito dalla parte destra alla parte sinistra, con dei numeri, 0 e 1. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che c'è un meccanismo di codifica dell'informazione in una forma binaria. E cosa fa la macchina? Si sposta a destra, a sinistra, sul nastro, a seconda del simbolo che legge e a seconda dello stato in cui si trova. È una cosa semplicissima. È stata introdotta da Turing negli anni 30. È stata introdotta da Turing negli anni 30 per risolvere un problema, uno dei famosi problemi dell'Inver, il problema della decisione della matematica. Questa che vedete in fondo qui è la tesi di Alan Turing. La tesi di Alan Turing dice sui numeri calcolabili con un'applicazione al problema della decisione, scritto in tedesco e non lo so pronunciare. Cosa ha portato Turing come effetto? Ha fatto comprendere come il calcolo è semplicemente una manipolazione combinatoria di un insieme finito di simboli in base a regole finite. Quindi ha dato esattamente l'idea pratica di cosa vuol dire calcolabile, di che cosa vuol dire avere un modello universale per il calcolo. Fate conto che, ad esempio, Gadel, che è uno dei padri della matematica e che a sua volta aveva risolto uno dei problemi di Hilbert, non era convinto della nozione che aveva dato lui di calcolabilità fin tanto che non ha visto la tesi di dottorato di Alan Turing. Alan Turing è stato, l'avete visto nei film, la visione in modo particolare nel gioco dell'imitazione uscita un paio di anni fa, ma ha avuto un ruolo importante nello sviluppo dell'informatica, nello sviluppo della matematica, nello sviluppo della crittografia e è stata anche una persona che ha avuto una vittima enorme del pregiudizio. Allora, uno dei problemi che ha posto Alan Turing è il seguente. è possibile scrivere un programma che legge, quindi prende l'ingresso un altro programma, dei dati su cui questo programma opera e decidere, in un tempo finito, se il programma che ha letto su quei dati termina. Questa cosa vuol dire? Vuol dire, siamo in grado di scrivere un programma che ha preso un qualunque algoritmo, un qualunque insieme di dati su cui opera quell'algoritmo e dire se quell'algoritmo ha delle buone proprietà su quei dati. Allora, se riuscissimo a dire questo, noi avremo gli algoritmi di Cambridge Analytica, gli algoritmi di Google, gli algoritmi di Facebook, li guardiamo, gli indiamo dei dati in pasta e possiamo dirle, li mettiamo al giudizio di questo algoritmo divino che ci dice quali sono le proprietà, quindi si fa delle cose buone o delle cose meno buone. Bene, uno dei risultati della tesi dottorato di Turing degli anni 30 è che il problema della fermata non è decidibile, cioè non esiste alcun algoritmo in grado di prendere un altro algoritmo e decidere se ha dei buoni comportamenti sui dati. Allora, che cos'è questo? Io vi faccio un semplice esempio di matematica. Come si dimostra? Si dimostra in un modo molto semplice. Supponiamo che esista. E allora, se esiste, quindi vuol dire che abbiamo una funzione che abbiamo chiamato alt, che prende un altro algoritmo, f, un dato x, e ci dice vero o falso a seconda se termina o non termina. A questo punto costruiamo una funzione che chiamiamo la funzione strana e la funzione strana prende un algoritmo a f e ci dice se alt applicato alla funzione f su dato lui stesso f termina, allora strange, quindi da false. Se invece non termina, quindi vuol dire che alt f di f da false, strange da true. Allora questo cosa porta? Porta al fatto che se io applico a f a f, allora strange f va in un loop infinito e nell'altro caso invece quando f di f va in un loop infinito termina mi da true. Allora quest'altro è il modo di scrivere il paradosso del mentitore. Se un mentitore dice io mento, mente o dice la verità? Se voi lo vedete sia che dica la verità o che sia un mentitore avete sempre un paradosso. In un caso o nell'altro avete una falsificazione dell'assurdo. Bene, questo è il modo di dimostrare molto velocemente gli inglesi dicono e non mi scuso per usare la parola inglese hand waving scuotere le mani per spiegare una dimostrazione matematica che è molto più lunga. Qual è la morale? La morale è che non è un problema di strani matematici del secolo scorso che avevano dei pensieri strani. È collegata a problemi attuali. ovvero non abbiamo gli strumenti in grado e non perché non ne abbiamo gli strumenti perché la tecnologia non esiste non abbiamo gli strumenti concettuali e non li potremmo mai avere gli strumenti concettuali per decidere in modo assoluto di proprietà di algoritmi perché abbiamo il problema dell'affermata. Torniamo ad Alan Turing. Alan Turing è stato è sicuramente uno dei più importanti e matematici del secolo scorso una ricerca lo pone tra i principali dieci scienziati del secolo scorso perché apposta esattamente questi punti cioè calcolare come meccanismo di modifica di simboli finiti con azioni finite e a partire da un insieme finito di istruzioni. Che cosa vuol dire la macchina universale di calcolo i moderni computer sono esattamente questi il teorema dell'affermata l'indiciabilità del problema dell'affermata tutte sono queste che sono cose che sono alla base della informatica moderna e questo quindi parla il primo aspetto consapevolezza di quello che possono fare di che cos'è il calcolo e di che cosa possono fare gli algoritmi però ora stiamo parlando di macchine cognitive quindi dobbiamo a questo punto comprendere dove quali sono gli algoritmi basati su macchine cognitive ad esempio voi avete tutti un antivirus su un computer l'antivirus su un computer è strano perché sembrerebbe essere una un sistema che si accorge dall'esperienza e dal comportamento dei programmi che ci sono dei programmi che hanno un comportamento anomalo questi programmi che hanno un comportamento anomalo li classifica come virus troia orsi eccetera 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 allora come fa lo fa in base all'esperienza precedente quindi apprende da quello che il sistema ha fatto precedentemente quindi ha una capacità di apprendere rispetto all'esperienza le applicazioni finanziarie le applicazioni finanziarie sono applicazioni che comprendono usano l'esperienza per comprendere meno quando è il momento di vendere meno azioni sul mercato digitale anche lì sono algoritmi che apprendono l'esperienza la medicina la medicina personalizzata ora vengono utilizzate gli strumenti che usano moli masse di dati che cercano di riutilizzare l'esperienza passata su particolari morbosità e sull'uso particolare di farmaci eccetera eccetera andiamo a vedere altri esempi la personalizzazione dei messaggi l'uso degli assistenti vocali le macchine a guida autonoma sono tutte macchine che come faceva vedere prima Zamperini devono imparare a leggere i segnali va bene quindi sono tutte macchine che usano l'esperienza allora il DARPA che è l'agenzia di finanziamento americano ha dato questa classificazione delle macchine cognitive quindi macchine che usano algoritmi in intelligenza artificiale ci sono delle applicazioni che si chiamano che fanno semplicemente ragionamento simbolico cioè permettono di fare delle deduzioni delle macchine che fanno learning statistico ovvero degli algoritmi che usano grosse mole di dati un training set quindi un insieme per fare del learning e cercano di classificare i comportamenti in base a mole i dati del passato ad esempio questo è il tipico meccanismo che quando voi acquistate un libro su Amazon in thriller ci andate dopo una settimana e vi dicono toh è uscito in base alle vostre acquisti è uscito un nuovo thriller che magari vi può interessare fa statistical learning e poi ci sono anche delle macchine che cercano di spiegare perché se cambia magari il contesto di riferimento ci dovrebbero anche dire come è il motivo per cui è cambiato in base al modello di apprendimento perché questi tre aspetti sono importanti prima abbiamo parlato dei trasporti della finanza della medicina delle altre applicazioni sono i giudici digitali però a me quello che mi preoccupa sono i militari ovvero i sistemi che vanno a sganciare le bombe o i sistemi di controllo delle testate nucleari sono sistemi software sono sistemi software basati su modelli di apprendimento siamo sicuri che il modello di apprendimento è giusto e non ci sganciano una bomba perché qualcuno ha dato un modello di apprendimento sbagliato quindi sono problemi non banali gli esempi tipici del perché questi problemi sono problemi significativi sono ad esempio i modelli finanziari delle banche se voi usate un modello di apprendimento che usa i fidi che venivano dati in una certa banca dove ad esempio c'erano chi si occupava di dare i fidi che aveva delle pregiudizie ad esempio di razza quindi non dava i fidi per i mutui a gente di colore o immigrati l'algoritmo che viene fuori che usa questi dati sarà un algoritmo che utilizza lo stesso pregiudizio quindi è un problema non banale allora essendo un problema non banale bisogna affrontare il problema di che cosa sono le macchine cognitive che tipo di algoritmi usano e voi avete sentito parlare di reti neurali che sono lo strumento che viene utilizzato e si chiama machine learning e tecniche di apprendimento automatico il neurone l'analogia è come funziona il cervello abbiamo uno strumento digitale che in piccolo riassume il comportamento del cervello come funziona il neurone artificiale il neurone artificiale è una struttura che ha certi stimoli rappresentati da opportuni valori e calcola un risultato in base alla funzione matematica associata e in base al comportamento le reti un neurone però può essere messo in rete quindi ci sono i neuroni di input c'è una rete neurale che ha dei neuroni nascosti e apprende in base al modello di dataset di training apprende ad esempio a riconoscere il linguaggio naturale a riconoscere le immagini a riconoscere le strade eccetera 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 a questo punto quello che ora viene chiamato il deep learning quello che succede è che c'è una struttura gerarchica ad esempio in questo esempio per scherzare abbiamo una struttura gerarchica che prima riconosce i colori poi riconosce le facce poi dalle facce cerca di riconoscere le persone e a questo punto quando gli diamo in pasto questa figura la risposta potrebbe essere a uno statista artefice della PAX coreana oppure potrebbe essere un cabarettista dipende da come è stato fatto l'allenamento di questa rete neurale quindi che cosa vuol dire vuol dire le reti neurali sono un insieme di tecniche e metodologie per tirare fuori da grandi masse di dati una rappresentazione gerarchica e allenare le reti neurali a usare questa mole di dati per comprendere per essere allenata a comprendere quelle particolari tipologie di informazioni siano esse immagini il parlato le regole della finanza le regole del traffico eccetera eccetera allora uno può ad esempio come prima abbiamo fatto abbiamo visto che il recapture veniva utilizzato per google book a questo punto usa tutti i dati che abbiamo su google book per comprendere come si scrive ad esempio in inglese e quindi una rete neurale può cercare di essere utilizzata utilizzando questa mole di libri che è tutta la letteratura per comprendere quando io leggo la parola i qual è il carattere i qual è statisticamente il carattere che segue può venire n se leggo n può venire t eccetera quindi che cosa vuol dire riesco a istruire una rete neurale che mi permette che è allenata a generare sequenze di caratteri sequenze di paratteri sono frasi sequenze di frasi diventano libri allora questo esempio è un esempio fatto negli Stati Uniti hanno addestrato una rete neurale a fare delle barzellette a generare delle barzellette questa è la barzelletta generata dall'interneurale c'è la traduzione in italiano pessima l'ironia inglese non è l'ironia italiana però la rete neurale riesce a generare le barzellette cosa abbiamo fatto l'anno scorso e qui Mario Tedeschini l'anni era presente all'Internet Festival quando abbiamo presentato questo esempio siamo passati dalle barzellette alla politica il passo è breve cosa abbiamo addestrato abbiamo addestrato la stessa rete neurale per le barzellette l'abbiamo addestrata sui discorsi dei politici e a questo punto abbiamo generato dei bot politici cioè che generavano dei discorsi politici e l'abbiamo il primo esempio che è stato fatto è stato fatto l'esempio di i dibattiti tra Donald Trump e l'Irae Trinto l'abbiamo chiamato Reloaded perché era un paio di anni dopo allora questo sono i discorsi che veri del candidato Trump del candidato Trimper in inglese in italiano per far vedere come la traduzione veri noi abbiamo allenato questa stessa rete neurale l'abbiamo allenata sui discorsi e quindi su tutti i dibattiti che hanno fatto durante la campagna elettorale Trump e Clinton questi sono gli esempi veri a questo punto questo è sempre la presentazione della Clinton ecco a questo punto abbiamo fatto la domanda perché dovremmo votare per voi e invece di prendere la risposta vera di Trump e di Clinton abbiamo usato il bot che non è di Lercio è generato proprio da una rete neurale quindi usa un dataset di dati e un bel programma algoritmo ed è venuto fuori questo esempio ad esempio nel caso di Trump quello che veniva fuori è che era venuto per creare dei muri perché c'era bisogno di durezza invece la Clinton diceva che abbiamo bisogno di un'economia che vada bene per tutti qui ci sono altri esempi che cosa ne pensate uno dell'altra e vedete che i bot non pensavano bene di quello che la Clinton riteneva essere Trump e viceversa cosa succede per il Messico ve lo immaginate a questo punto io vi pongo la domanda se voi siete su Twitter adesso vi dovreste domandare ma i bot che io leggo sono di Lercio sono chi ha detto scusate i tweet che io leggo su dei politici sono esattamente del politico sono di Lercio o sono di qualche bot vendendo il numero di bot artificiali ci sono qualche dubbio può emergere che molto del dibattito sia viziato da opportuni strumenti sofisticatisti da un punto di vista informatico perché racconto questo perché uno dei diritti che noi abbiamo come cittadini è il diritto alla spiegazione come funzionano torniamo a fare il professore universitario di informatica in un modello di comportamento e di sviluppo di algoritmi di macchine cognitive migliore di quello che c'è ora quello che uno dovrebbe avere dovrebbe avere un modello del comportamento nel senso avere un modello dell'apprendimento e comprendere quindi come i dati sono usati è chiaro che questo non è un problema banale perché abbiamo sempre il problema della fermata in cui dicevo prima cioè non riusciremo mai a stabilire esattamente cosa farà l'algoritmo quello che riusciamo però a stabilire perché il modello lo creiamo noi su mode di dati è qual è il modello che viene utilizzato per istruire la rete neurale per cui se ci sono dei bias nel modello saremo in grado di comprendere perché il modello genera del bias e soprattutto saremo in grado di rispondere a delle domande per qual è il motivo per cui la macchina cognitiva ha fatto quel tipo di scelta perché ha un modello di comportamento e ha un modello della spiegazione chiaramente continua a valere il problema della fermata non è decidibile non siamo in grado di farlo in generale ma siamo in grado di farlo su dei dati particolari che conosciamo per poter creare il modello della spiegazione allora a questo punto quello che deve essere l'informatica del futuro per quanto riguarda le macchine cognitive è avere allenarsi quindi fare statistical learning comprendere qual è il modello delle decisioni che viene utilizzato per allenare la macchina cognitiva e fornire le spiegazioni del perché scelte scelte sono fatte allora questo è quello che e torniamo al tema del giornalismo può essere utile ad esempio per avere coniugare la parola notizia e democrazia assieme che spesso non è una cosa semplice da fare quello che prima Zamperini vi ha detto vi ha detto che quando voi fate una ricerca le informazioni della vostra ricerca poi vengono utilizzate da google dalle reti sociali per definire il vostro flusso di informazione nel il pariser un paio di anni fa ha detto che noi abbiamo delle bolle siamo all'interno di una bolla di filtraggio perché noi facciamo delle ricerche e le ricerche che noi facciamo o le news che ci vengono date da facebook per quanto riguarda le reti sociali dipendono dalla nostra storia da quello che abbiamo detto che ci piace da le opinioni che abbiamo affermato nel passato quindi viviamo in un mondo dove le notizie ci vengono date filtrate in base a un algoritmo che ci fa vedere quello che ci piace e ci mostra soltanto quello che ci piace quindi abbiamo una bolla di filtraggio oggi visto che Greta ci ha insegnato che bisogna combattere per l'ambiente allora come funziona la bolla di filtraggio oggi bene c'è un problema del clima se tu hai manifestato e chiaramente l'ho preso nella politica americana partito democratico e partito repubblicano se tu hai dimostrato che sei un esponente del partito repubblicano che pensa che tutte le notizie sul clima sono solo delle balle messe a giro da profosseroni che non capiscono un tubo bellissimo allora a questo punto hai una bolla di filtraggio che ti fa vedere soltanto le notizie che dicono che la terra è piatta sostanzialmente e che anzi che negli ultimi anni ci sono evidenze che la terra è sempre più piatta e non è una sfera invece se sei uno che ha mostrato sempre una fedeltà al partito democratico alla Clinton invece vi arriverà ci sarà un filtraggio a favore dell'ambiente mostro entrambi il lato e l'altro per dire questa non è democrazia eppure noi sappiamo che la democrazia è diversità la democrazia aumenta proprio per il fatto che c'è una diversità di opinioni e c'è il confronto delle idee e delle opinioni la saggezza della folla wisdom of a crowd dicono gli inglesi se tutti la pensano nello stesso modo non è una saggezza è omologazione delle opinioni e però da informatico vi dico se io vado a vedere gli algoritmi so che gli algoritmi ad esempio se io vado a vedere come è fatto l'algoritmo di Edge che fa l'alimenta le news su Facebook è favorisce la polarizzazione allora a questo punto noi come informatici sappiamo qual è il problema sappiamo come vengono utilizzati il problema è che il nostro obiettivo da informatici e chiaramente noi non facciamo business il nostro obiettivo da informatici è fare in modo che venga resi consapevoli le persone che usano le reti sociali gli algoritmi delle reti sociali che c'è questo problema e mettere all'interno del dibattito il fatto che possiamo utilizzare degli algoritmi che rompano le bolle di filtraggio breaking the filter bubbles perché sappiamo come funzionano gli algoritmi e quindi fare in modo che nel progetto delle macchine cognitive per le reti sociali vengano progettate da by design delle reti che pongono dei sistemi che pongono la privatezza dei dati e che pongano il problema della diversità come elemento essenziale del progetto degli algoritmi quindi una componente che in questo momento nell'informatica in modo particolare anche negli Stati Uniti è sentita dell'etica della professione dell'informatico che deve affrontare il problema dal progetto e quindi non più perché siamo consapevoli che i dati che noi diamo a Google a Facebook hanno un costo che è il nostro costo e questo quindi esattamente l'analogia con quello sulla democrazia che diceva prima Zamprini non ci siamo messi d'accordo ma abbiamo fatto lo stesso discorso da due punti di vista diversi voglio concludere con una pubblicità nel 1969 i Beatles come voi sapete hanno sonnato sul primo concerto all'aperto su la terrazza del loro studio a Londra è stato all'inizio dell'anno 50 anni l'uomo è andato sulla Lunda è stata aperta l'università in bassa e nell'università italiana è stato aperto il primo corso di informatica all'università di Pisa nel novembre del 69 ho l'onore di dirigere il dipartimento di informatica dell'università di Pisa che è il più vecchio dipartimento di informatica in Italia a partire dal 25 marzo inizieremo a celebrare questo evento che è un valore per l'Italia ed è un valore anche per l'Europa e per la nostra società e lo celebraremo a partire con Alessandro Baricco prendendolo un po' a giro lui ha scritto un libro che si chiama The Game e noi faremo un evento che abbiamo chiamato Vers Game ovvero dove non solo Baricco parla del futuro della tecnologia digitale e dell'informatica ma ne parla assieme a noi e sarà a Pisa lunedì 25 grazie per l'attenzione Allora possiamo permetterci di fare un po' di domande se volete quindi se avete domande sul tema siamo a disposizione e abbiamo un quarto d'ora ancora un po' di tempo per affrontare altre questioni ci sono mani alzate sì c'è una mani alzata andiamo a sentire più che una domanda era una considerazione prendendola proprio dall'ultime affermazioni che il professore ha fatto cioè sulla necessità dell'etica dell'informatico della necessità di porsi il problema del perché del per come e della trasparenza poi di queste delle scelte che fa via via nel costruire il suo virgolette algoritmo ecco io credo che questo sia esattamente siamo credo in un corso di ontologia in questo momento formalmente siamo parte nella seconda ora di un corso di ontologia dell'ordine dei giornalisti valido per i punti bontà dei giornalisti italiani è che quando noi raccogliamo le informazioni processiamo queste informazioni e produciamo altre informazioni i nostri articoli i nostri servizi quelli che sono in realtà noi applichiamo degli algoritmi certe volte sono delle regole che possiamo trasparentemente dedurre da quello che è il nostro prodotto allora io credo che in termini il giornalista che si confronta con l'informatico e si è parlato ieri della possibilità forse anche dell'utilità che gli informatici entrino in redazione non come esperti dello strumento ma come persone che scrivono algoritmi di tipo diverso e quindi che questa stessa trasparenza del metodo sia la base stessa dell'etica dell'antologia del giornalista se non c'è questo nel grande mare magnum non differenzia in nulla il nostro prodotto da altri prodotti ha ragione Mario è esattamente la considerazione che facevo io dal punto di vista dell'informatico cioè noi quando progettiamo sistemi in questo momento quando progettiamo dei sistemi software abbiamo la necessità di spiegare il perché di alcune scelte ed è importante che questa venga non a posteriori perché se viene fatta a posteriori è una cosa messa lì deve essere fatto esattamente nel momento in cui si progetta un sistema progettare un sistema informatico è non banale e richiede attività complicate che devono essere fatte tipicamente da team di centinaia di persone quindi porsi il problema prima è essenziale altre domande mani alzate una mano alzata senta professore lei ha detto una cosa molto corretta e le faccio una domanda pietosa da giornalista quanto nella formazione lei dirige il più vecchio dipartimento di informazione d'Italia ero forse uno dei pochi giornalisti che lo sapesse quindi sono orgoglioso quanto però nei programmi nel curso formativo degli attuali informatici ingegneri informatici quindi quelli che escono dal poli oppure dalle facoltà di scienze naturali non esistono più le facoltà vabbè scusi dalla legge c'è il minimo mi sono fatto anche io oramai tre riforme quindi uno perde i pezzi quanto vengono formati su questi temi attualmente in Italia e all'estero allora dipende dipende allora c'è tutta una parte di formazione che viene fatta che si chiama gli soft skills la formazione universitaria è triennale e magistrale e ci sono poi classe di lauree diverse ad esempio nella formazione tipica del percorso di un informatico quello chiamiamolo nerd like gli aspetti dei soft skills sono molto ridotti sono molto ridotti sono ridotti tipicamente a lavorare in gruppo avere la capacità di descrivere le proprie scelte e per fare dei progetti è limitato a questo se io invece poi prendo altre tipologie di percorsi tipo i data scientist oppure coloro che fanno intelligenza artificiale in questo momento questo discorso dell'etica e ad esempio di strumenti di progettazione che si chiamano privacy by design sono invece elementi caratterizzanti perché quelle particolari figure che vengono formate hanno un'esigenza più stringente di questi aspetti nel mondo anglosassone il soft skills invece assumono un ruolo veramente significativo e non solo se io vado a vedere la formazione di un triennale americano quello che gli americani o nel mondo anglosassone quello che chiamano i bachelor in termini anglosassone i nostri triennali sono molto più formati con le competenze tecniche e scientifiche ordini di grandezza e hanno una minore capacità relazionale la cosa poi cambia invece a livello del dottorato dove nel mondo anglosassone quindi nella formazione superiore dove invece la formazione è molto più verticale e quindi poi escono Brim, Page Facebook Zuckerberg anche se alcuni di loro non si sono mai laureati ma evidentemente non non gli serviva un granché visto poi il successo altre altre domande se ho capito bene lei ha detto una prospettiva di difesa è la creazione di algoritmi di rottura delle bolle di conoscenza di filtraggio di filtraggio e la domanda è realisticamente c'è chi ci è già vicino ci si può realmente arrivare gli algoritmi esistono gli algoritmi esistono cioè il problema è che Facebook lo farà mai Google lo farà mai dubito cioè il problema è io infatti la domanda che facevo la facevo esattamente a voi giornalisti cioè voi giornalisti avete cioè dal punto di vista tecnologico io sono in grado non ve li faccio vedere gli articoli che trovate su XRV o sulla conferenza internazionale del data science che fanno vedere quali sono gli elementi presenti nell'algoritmo di Facebook che caratterizzano la polarizzazione del filtraggio sono esoterici per voi per me no però per voi sono esoterici quindi non parlo di questo però il mondo del giornalismo deve fare un investimento su questo a livello di formazione e a livello di infrastrutture perché altrimenti delega agli over the top la formazione e l'informazione quindi realisticamente il mondo del giornalismo significa qualche gruppo editoriale così lungimirante che fa un investimento in questo senso esatto c'è un investimento non necessariamente un gruppo il giornalista filenzi che è la gran parte dell'apparazione giornalistica di oggi penso sia tagliato fuori quello è un grosso problema sì e beh quello è un problema che sta in capo alle istituzioni del giornalismo visto che esistono mi sembra che Mario voleva intervenire infatti venivo da Mario naturalmente l'età mi confonde i ricordi ma qualche anno fa non tanti due o tre anni fa una grossa testata americana non ricordo se fosse proprio New York Times o Washington Post però onestamente quello devo controllare fecero un bottoncino che cliccando il quale ti proponevano una versione non del proprio pubblicato perché quello rimaneva ma diciamo entravi in una bolla diversa da quella appunto Red Blue nella contrapposizione politica sì sì americana ti facevano vedere cosa un'altra persona potrebbe vedere in quel momento della realtà su Facebook o viceversa su un altro vuosti giorni l'aveva fatto ecco non ricordavo qual era il sì sì quando dicevo investimento sulla piattaforma intendevo esattamente questo cioè gli algoritmi per fare queste cose esistono e sono studiati quindi dubito che ribadisco che lo faccia Facebook torniamo a un'altra domanda ma in questi giorni ho diciamo sentito parlare di gruppi di persone è uscito un mese fa circa un articolo che era proprio la polizia danese se non sbaglio si chiamano in Italia io sono qui io non sono qui noi siamo qui che tentano di svarionare diciamo l'algoritmo di Facebook o di Twitter facendo commenti positivi solo commenti positivi e sostenendosi con i like veramente può funzionare o è certo perché le bolle di filtraggio dipendono esattamente dalle opinioni che uno ha espresso quindi a questo punto uno può ma l'ha fatto l'ha detto prima ma Zamperini quando uno entra in una l'esempio della strada di periferia vuol dire esattamente questo cioè se io entro in una strada che ha di periferia che ha delle regole di comportamento differente e quindi allo stop va avanti quindi siamo a Napoli sostanzialmente quando arriviamo a questo punto l'algoritmo va a dare un flusso di informazioni differente il problema che ancora una volta è vero che uno dice io prendo in giro l'algoritmo non è vero l'algoritmo è pensato apposta per affrontare questo quindi il problema è molto più profondo è un problema esattamente di favorire la diversità vivere in ecosistemi di informazione ve lo dico da utente io non faccio di mestiere ovviamente il giornalista però da utente tendo a non fare fermarmi rispetto alla mia moglie ma cerco di guardare tanti giornali in modo tale da avere un'opinione differente questo deve essere però una piattaforma dei giornalisti che dovrebbe poterlo fare in modo autonomo dubito che si riesca a scardinare l'algoritmo di Facebook soltanto mettendoci una zona franca dove arrivano dei flussi di informazioni differenti il problema è che il numero di persone che sta su Facebook è troppo elevato io ringrazierei il professor Ferrari e sottolineerei questa cosa insomma noi abbiamo un compito e insomma bisognerà che ce lo continuiamo a ridire 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 e lavorare in questo senso le istituzioni del giornalismo probabilmente potrebbero in qualche modo certamente i gruppi editoriali insomma sta in capo a tutti noi lavorare soprattutto sul frangente culturale abbiamo avuto un tecnico giornalista e un tecnico tecnico addirittura uno scienziato e tutti ci hanno detto non è da lì che dobbiamo partire ma dalla cultura grazie grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti